io vado sul petto che dati qui qui, è strano si, è proprio di fronte no contenitore di più rischio localizzato aspetta ah sono ultimo disattivazione di positivi ma eri dentro? eri dentro e e non ha scritto bubbero ok disattivo l'elettronica ho preso qualcuno ah l'hai sentita eh? ah eccolo e arca dentro non fuori fuori ultimo uomo per la squadra alleata squadra d'attacco eliminata sai chi è stato? non si sa non è stata la caveira quello che vi siete sparati ultimo uomo su pantofola killer Giobo eh meglio così negli pochi ma l'uomo fuori il castello è fuori chi ha? ognuno ha la scena marusco fece giaca sbrio 2 Il boss è forte 5 Ah Era dentro, l'ho colpito ma non... Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Difendete la stanza. Attivazione gemmer. Attivazione gemmer. Gemmer, punto all'attivazione. ADS attivo in posizione. Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Ho rinforzato il muro! Mancano 10 secondi. Ancora 5 secondi. Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi. Gemmer, pronto all'attivazione. Gemmer, pronto all'attivazione. ... Gemmer, pronto. Vizuali subversario Vizuali subversario Nooooo Eh quasi morto Il nemico si sta impossessando il contenitore Impedite all'istante Impedite al nemico di prendere il contenitore Il nemico sta prendendo il contenitore Sentate ultimamente il contenitore Difesa contenitore di biorischio in pausa Pensate al nemico Ultimo nemico rimasto Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio Impedite al nemico di prendere il contenitore di biorischio I difensori hanno eliminato tutti i nemici Ehi Ottanta, ottanta no Alla fine la connessione va bene dai Quattro contro cinque Oh siamo quattro contro cinque E loro sono forti Trovate il contenitore di biorischio E via Allora Allora Quattro castello Oh Qui c'è un zanno Inserimento tra dieci secondi Inserimento tra cinque secondi Perfetto il muro Ben fatto Il contenitore di biorischio è stato individuato Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo Ricarico! Copritemi! Perchè? Parazzolino No Chi è questo drone? Cos'è? Mi ha fatto niente Mi ha fatto niente Pto il cu la parete Forca tra l'ai l'ho mancato Piazza una carica da irruzione Ma va a fanculo l'immortale Dio porco Ma guarda Sì 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 Sì